Ho fatto dry hopping e la birra ha attenuato più del dovuto. Oppure per chi si basa sul gorgogliatore, non fatelo, ho fatto il dry hopping e dopo la birra ha ripreso a gorgogliare. Oppure ho fatto dosi estreme di dry hopping e ora mi ritrovo con una birra a fontana, il classico gushing, ne parlo nel link in descrizione. Ciao, io sono Lucio, questo è un Brewing Diary e tutte queste affermazioni hanno qualcosa in comune, il lupolo. Oggi parlo di hop creep. Quali sono le cause, quali sono gli effetti e come possiamo provare a prevenirlo. Questo è un video un po' lungo ma spero sia completo perché ci sono dentro un po' tutte le informazioni che sono riuscito a trovare su questo argomento. Quindi sigla e poi iniziamo. Se ti ritrovi in una di quelle affermazioni probabilmente hai sperimentato l'hop creep e non sei sicuramente il primo. Infatti già nel 1893 Brown e Morris avevano intuito quali erano gli effetti del luppolo a freddo sulla birra. Poi gli studi sono stati ampliati nel 1941 e di lì non sono più stati ripresi. Gli studi sono ripresi ai giorni d'oggi dopo una pausa di quasi 70 anni con il ritorno alla luce delle birre luppolate. Infatti capita che ogni birrificio che ormai ha come prodotto di punta una birra luppolata iniziava a sperimentare una sovrattenuazione, una sovracarbonazione e la presenza di diacetile nelle proprie birre. Gli studi più importanti sono stati quelli di Kirkendall, Mitchell e Chandwick nel 2018 e di Kirkpatrick Schell-Rammerz, scusate per la pronuncia, nel 2019. Comunque ci sono dei link in descrizione che raccontano bene la storia e l'evoluzione di questi studi. Poi per chi mastica l'inglese c'è anche il link al podcast dell'American Ombrewing Association. 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 Ma cos'è l'hop creep? Partiamo dall'inizio. O meglio, dalla fine. Alla fine della fermentazione abbiamo una densità stabile e un certo numero di zuccheri residui. È arrivato quindi il momento di fare il dry hopping. Si inserisce il luppolo e dopo qualche giorno si nota che la fermentazione è iniziata a ripartire. Infatti dentro al fermentatore è successo che i luppoli, che contengono degli enzimi, sono riusciti a convertire i zuccheri complessi in zuccheri semplici come maltosio e glucosio e il lievito ha ricominciato a fermentare mangiando questi zuccheri. Detta così sembra un fenomeno inevitabile e in effetti lo è. Però sono stati fatti degli studi che permettono un po' di ampliare la questione e capirne le cause e soprattutto le conseguenze. Ma per sapere come combattere l'hop creep prima bisogna conoscere questo nemico. Partiamo dall'inizio. Gli enzimi che sono contenuti nei luppoli sono la beta-amilasi e l'alfa-amilasi, che ben conosciamo perché sono gli stessi che intervengono nel mesh, la miloglucosidasi che rompe le catene di zuccheri trasformandoli in glucosio e la destrinasi che rompe le catene lunghe di destrine. Quindi tutti questi enzimi rompono le catene lunghe di zuccheri e amidi e li trasformano in zuccheri fermentabili. Il lievito se li mangia e produce alcol, CO2 e niente di male se non fosse che quella CO2 me la sono ritrovata in bottiglia ed ha deciso di uscire tutta in un colpo. Oltre alla sovrattenuazione, quindi la sovra produzione di alcol, di anidride carbonica e l'abbassamento del corpo dovuto agli zuccheri residui, un altro effetto è l'aumento dei sottoprodotti dati dalla fermentazione. Infatti durante la fermentazione si producono diacetile, acetaldeide, esteri etilici e acetati. Tra questi sottoprodotti il diacetile è quello maggiormente imputabile all'opgrip, se non altro perché in birrificio viene misurato attraverso la conta dei VDK, i chetoni vicinali. Non chiedetemi cosa sono perché non sono un chimico e non lo so. Riguardo al diacetile c'è un aumento perché dopo la fermentazione succede che il lievito è particolarmente stanco e quindi il diacetile prodotto mangiando gli zuccheri derivati dall'opgrip non viene riassorbito. Ma cosa hanno trovato tutti questi studi che ho citato all'inizio? Prima di tutto si conferma la tesi del 1893, ovvero che il luppolo ha un potere diastatico, escludendo quindi le altre due ipotesi che si erano ipotizzate, cioè che il luppolo avesse dei zuccheri fermentabili al suo interno e che contenesse dei lieviti selvaggi, almeno non in casi particolari. Oltre a questa conferma oggi sappiamo molto di più sull'opgrip, infatti dipende da molti fattori. Primo tra tutti è il tempo di dry hopping, infatti più il luppolo resta a contatto con il mosto, più avrà tempo per far lavorare gli enzimi convertendo zuccheri non fermentabili in zuccheri fermentabili. Stesso discorso per la temperatura, infatti si è visto che gli enzimi diastatici contenuti nei luppoli lavorano dagli 1-2 gradi fino a 60 gradi, aumentando il potere diastatico che hanno in base alla temperatura. Dopo i 60 gradi gli enzimi si disattivano, ecco perché aggiungere luppolo in bollitura non porta a un creep perché la temperatura, essendo di 100 gradi, permette di denaturare gli enzimi e non farli lavorare quando sono nel fermentatore. Anche il pH della birra è coinvolto, infatti si è visto che questi enzimi lavorano in un range tra 4 e 5 per il pH, che guarda caso è proprio quello della birra finita. Ovviamente anche il numero e la quantità di luppoli utilizzati in dry hopping è molto importante per aumentare questo effetto. Più il luppolo si usa e più enzimi si introducono. Ma ciò che si è visto e che sembra più importante e su cui si sta muovendo l'industria è la lavorazione del luppolo. Infatti il luppolo prima di essere utilizzato viene essiccato per aumentarne la longevità e quindi evitare che marcisca. Le temperature di essiccatura permettono anche di denaturare parte di questi enzimi, quindi aumentare la temperatura di essiccazione potrebbe favorire l'assenza di hop creep. Inoltre la quantità di zuccheri residui nella birra quando si fa il dry hopping è ovviamente importante perché più zuccheri ci sono non fermentabili e più c'è la possibilità che questi vengano convertiti in glucosio, maltosio eccetera ed essere fermentati. Ecco perché nella mia ultima birra, quella low alcohol, avevo inserito pochissimi zuccheri in modo da stare tranquillo e fare dry hopping molto molto importanti senza aver paura che ci fosse hop creep. Link in descrizione per il video. L'ultimo punto da considerare è la varietà di luppolo e il tipo di luppolo che si sta utilizzando. Infatti la genetica conta. Si è visto che varietà diverse hanno diversi poteri diastatici. Il cascade e l'amariglio hanno un alto potere diastatico mentre siamo su valori medi per il cinque e il centennial. Il sitra sembra essere quello con minor potere diastatico al suo interno e quindi è quello che dovrebbe dare meno problemi. Ma non basta guardare la varietà perché conta anche il metodo di coltivazione, la maturità della pianta durante la raccolta, il terroir utilizzato, i metodi di concimazione e di irrigazione. La stagionalità e ovviamente la qualità dell'essiccazione e della conservazione del luppolo. E ora che sappiamo chi è il nostro nemico come possiamo evitare l'hop creep? Alcune delle soluzioni ma non tutte possono essere limitare gli zuccheri non fermentabili a fine fermentazione avendo quindi una birra molto più secca ma che poi non possa ripartire in bottiglia e quindi stiamo evitando il gushing. Ovviamente questo dipende anche dal risultato che si vuole avere. Se una birra deve essere luppolata a freddo quindi in dry hopping e deve avere un'alta quantità di zuccheri residui questo metodo funzionerebbe poco. Un altro metodo è quello di mettere meno luppolo e quindi spostare le gettate in hop stand o comunque in altre fasi meno critiche a livello di hop creep. Oppure limitare il tempo di contatto del luppolo in dry hopping. Basti pensare che nel 2012 l'università statale dell'Ohio ha studiato che le quantità di mircene e linalolo che sono quelle apportate in dry hopping dal luppolo vengono estratte completamente quindi la birra arriva saturazione già dopo 24 ore di contatto. Quindi mantenere il luppolo più tempo potrebbe essere controproducente. Anche luppolare prima in dry hopping permette di controllare almeno in parte gli effetti dell'hop creep. Infatti aggiungere il luppolo nei primi giorni di fermentazione permette di arrivare alla fine con una densità stabile che ricomprende già gli effetti dell'hop creep almeno in parte. Se invece si vuole luppolare a fine fermentazione basterà usare il luppolo craio o crio in base a come lo vogliamo pronunciare. Infatti in questo luppolo che ha subito un particolare processo di lavorazione sembra ci siano molti meno enzimi diastatici e quindi porta a non avere hop creep all'interno della birra dopo il dry hopping. Per il problema del diacetile invece a livello di birrificio sono stati tentati vari metodi. Uno di questi è evitare di fare il cold crash prima che il diacetile sia completamente riassorbito quindi si aspetta che il lievito continui a fare il suo lavoro per poi addormentarlo tramite il cold crash quando non è più necessario. A livello casalingo invece sempre per riassorbire il diacetile basterebbe usare un lievito in salute che riesce ad arrivare fino alla fine della fermentazione e continuare a fare il suo lavoro in modo efficace. L'ultimo metodo che ho trovato è quello di usare solfiti o comunque sostanze che blocchino l'attività del lievito oppure l'attività enzimatica del luppolo all'interno della birra. Secondo me questo metodo è poco misurabile quindi è difficile capire quanto queste sostanze effettivamente hanno avuto l'effetto desiderato. sembra che la pastorizzazione o comunque la filtrazione in modo da eliminare almeno in parte il lievito siano strade comunque percorribili. La soluzione che almeno per me sembra quella più semplice è di riconsiderare l'op creep all'interno della ricetta in modo da arrivare alla fine avendo già considerato l'abbassamento di densità finale e quindi avendo già considerato l'aumento della co2 e dell'alcol e l'abbassamento del corpo in ricetta. Non sarà facile e bisognerà fare sicuramente molte prove ma penso che sia una strada almeno abbastanza percorribile. In più ovviamente prima le birre vengono bevute e meglio è ma questo è un altro discorso. Comunque sarebbe bello poter misurare gli effetti dell'op creep sulle nostre birre. Per ora è stato fatto il laboratorio seguendo questo metodo. Si sono preparati due campioni con la stessa soluzione alla stessa densità di amidi quindi zuccheri non fermentabili. All'interno è stato inserito anche del lievito nelle stesse condizioni fermentative. In uno dei due campioni è stato inserito del luppolo di una particolare varietà che era quella che si voleva studiare. Dopo un certo periodo di tempo si è notato che il lievito all'interno della soluzione con il luppolo aveva attenuato di più rispetto all'altro segno che parte degli zuccheri non fermentabili erano stati convertiti in zuccheri fermentabili e quindi il lievito li ha potuti mangiare. In questo modo si potrebbe avere una stima degli effetti del dry hopping su una particolare condizione con una particolare densità e in base alla varietà di del luppolo studiata. E questo è tutto se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un like iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e dimmi nei commenti se hai mai avuto hop creep e se te ne sei accorto. Io personalmente non sempre me ne sono accorto.